C'è stata una polemica su Casa Abruzzo, sul fatto che magari sia poco frequentata o che sia poco utile. Lei che l'ha vissuta, cosa ne pensa? Sulle polemiche non voglio entrare nel merito dei costi. Io dico solo che Camillo D'Alessandro ha avuto una grande intuizione come location. È una sede meravigliosa, c'è un flusso di gente che arriva, che passa, che chiede dove è l'Abruzzo, che cos'è l'Abruzzo. Il problema nostro è che siamo ancora poco conosciuti, nessuno conosce le nostre grandi bellezze e quindi facciamo ancora più fatica a farle conoscerle. La location è veramente autorevole, è una bellissima location perché io non entro nel merito. Senta, adesso l'Abruzzo invece entrerà dentro all'Expo, nelle prime settimane di luglio, sarete ancora protagonisti all'interno dell'Expo? Gli amici ristoratori di qualità Abruzzo andranno a Umanitaria, che sarà una sede di staccata dell'Expo e faranno lì pranzo e cena con prodotti abruzzesi. Diciamo che sarà veramente una cosa meravigliosa perché arriveranno a Milano anche chef importanti come Peppino Tinari, come Marcello Spadoni, come Beccaceci, come Fossa Ceca, come Alessandro De Antonis. Il gota della cucina abruzzese. Quindi i nostri colleghi arriveranno là e sicuramente faranno bene. E parte le piccole polemiche, è chiaro che quando tu lavori fuori sede, lavori con alcune difficoltà, ma tutto questo lì poi c'è la classe del ristoratore.